Allora, Davide Candellaro si chiude con questa ciliegina, vittoria su Piacenza la stagione regolare di Molfetta. Ora ancora a Trento per quanto riguarda i play-off Scudetto, stagione comunque storica questa per Molfetta, per i vostri tifosi, per voi? Stagione storica comunque perché abbiamo fatto un miglioramento rispetto all'anno scorso e rispetto all'anno prima ogni anno si sta migliorando. E' ancora contro Trento perché evidentemente o noi piacciamo a loro o semplicemente il caso, ormai questa sarà la quinta volta, la prima gara 1 sarà la quinta volta e poi seguire. Speriamo che ci porti bene questa cosa perché alla fine siamo due a due. La Molfetta sa battere Trento, l'ha dimostrato quest'anno? Sì, noi dobbiamo credere un po' più nei nostri mezzi, quindi da lì partire per poi costruire la partita. Stiamo parlando sempre comunque di una squadra e di una società che comunque fa la forza mentale dal loro primo punto di forza. Continuano i tanti impegni visto che giovedì si inizia già con i play-off, poi domenica si gioca ancora qui in casa. Che stagione è stata così compressa per voi e con tanti cambi in panchina, insomma una stagione anomala? Beh sì, diciamo che dei vari cambi in panchina forse ne abbiamo subito le conseguenze di più nella parte centrale del ritorno. Comunque si è visto che le prestazioni in campo, abbiamo fatto il cambio in panchina comunque anche un cambio in mentalità, un cambio in modo di lavorare, sono tante cose dietro al cambio in panchina. E poi adesso vediamo, adesso cerchiamo di stabilizzarci, cercare di trovare le sicurezze e vediamo cosa ne esce con tutto qui. Grazie.